Sono molto contento di come sta andando la stagione adesso, anche per il periodo in cui ci troviamo, perché veniamo da una buona serie di vittorie e sono contento che coincidano con questo mio buon periodo. C'è tanto da migliorare, adesso che ho più minuti in campo, cercherò di dare un po' più di numeri alla squadra, un po' più di rimbalzi, un po' più di punti, magari vediamo che migliorare sotto questi aspetti. Adesso anche con il rientro di Massimo di Kessa stiamo migliorando, perché si sentiva la mancanza già di Benetti e con il rientro di Kessa siamo riusciti ad avere un po' delle rotazioni più lunghe e quindi a spingerli più. Avendo una buona intensità in campo si sente la mancanza di ogni giocatore. Sicuramente ci aspettiamo una squadra che sarà per vincere perché stanno anche loro giocando per il periodo, quindi sarà sicuramente una partita combattuta. Vengono da una brutta sconfitta con Biella, quindi ci aspettiamo che abbiano un po' di voglia di rifarsi. Sicuramente era un buon giocatore spallacanestro Renzi e cercheremo sicuramente di marginarlo al meglio delle nostre possibilità.